Il messaggio principale che emerge dallo studio Ischemia è che soprattutto nel paziente asintomatico con sindrome coronarica cronica, vorrei dire il paziente asintomatico ischemia-like, cioè uguale alla tipologia di pazienti arruolati nello studio Ischemia, perché sappiamo che ce ne sono stati alcuni esclusi con certe caratteristiche, ebbene in questo paziente asintomatico noi cardiologi non dobbiamo più avere la fretta di mandare il nostro paziente dall'emodinamista pensando e sperando che la soluzione interventistica sia la scelta migliore per il nostro paziente. Quindi nel paziente asintomatico possiamo avere il tempo di riflettere, di ragionare, di ottimizzare la terapia farmacologica e non farmacologica, intendo stili di vita adeguati, terapia medico ottimizzata per controllare i fattori di rischio più importanti, quali l'ipertensione e l'ipercolesterolemia. Viceversa, il messaggio dello studio Ischemia è che nel paziente sintomatico, soprattutto quando la terapia medico ottimale non è riuscita a controllare i sintomi e a migliorare la sua qualità di vita, che è decisamente importante in ogni paziente, la prima scelta deve essere necessariamente quella invasiva, come nello studio Ischemia, cioè inviare il paziente per uno studio emodinamico per vedere quali sono poi le scelte ottimali da perseguire se l'interventistica percutanea piuttosto che la cardiochirurgia. A questo punto credo che un altro messaggio legato al primo che ho dato è che soprattutto nel paziente asintomatico, nel quale già conosciamo l'anatomia coronarica perché ha avuto un recente infarto piuttosto che una recente rivascolarizzazione percutanea, continuare a fare inutili stress imaging non serve al paziente, non serve al sistema sanitario. Una sana e buona prova da sforzo periodica, non di routine, è sufficiente per slatentizzare eventuali problemi e quindi vorrei dire un messaggio che ci arriva è possiamo permetterci di volare un pochino più basso e di andare dietro quella filosofia per la quale less is more, cioè in questi pazienti asintomatici fare di meno significa fare di più. Lo studio Ischemia, ed è questo stato l'argomento di un grande dibattito dopo la pubblicazione, ha dimostrato che nel gruppo invasivo c'è stata una maggiore incidenza di infarti peri procedurali, tra l'altro sottostimata perché sapete è stato utilizzato un metodo particolarmente conservativo per cui se si fosse adottata la definizione canonica dell'infarto miocardico gli infarti peri procedurali sarebbero stati probabilmente molto, molto, molto superiori come numero, avrebbero un pochino sbilanciato il risultato finale. Comunque accettando lo studio come è stato, ovviamente ha dimostrato, dicevo, che ci sono stati più infarti peri procedurali nel gruppo invasivo e meno infarti spontanei nello stesso gruppo invasivo a maggiore distanza, cioè nei primi sei mesi, un anno più infarti peri procedurali ovviamente nel gruppo che era stato sottoposto a rivascolarizzazione, nella fase più tardiva dopo un anno più infarti spontanei nel braccio invece conservativo dove non era stata fatta in buona sostanza la rivascolarizzazione, questo da un certo punto di vista non ci stupisce perché ovviamente con una procedura interventistica si paga dazio di un danno procedurale, non voglio entrare di nuovo nel merito di come misurarlo questo danno procedurale, viceversa il fatto per cui i pazienti non rivascolarizzati nel lungo termine poi abbiano avuto un maggior impatto in termini di infarti spontanei potrebbe essere spiegato dal fatto che lo studio raccomandava nel braccio invasivo di rivascolarizzare tutti i vasi che inducevano ischemia e allora potremmo pensare che nel lungo termine, probabilmente follow up esteso che sta proseguendo fino al settimo anno, ci lo dirà in maniera più chiara, probabilmente gli infarti spontanei sono avvenuti nel braccio non rivascolarizzato per un qualche cosa che è successo su quelle coronarie che erano apparentemente anatomicamente non tali da essere rivascolarizzate ma sulle quali poi il processo ateroscolarotico è proseguito e qualche cosa in fase più tardiva possa essere successo. Questa potrebbe essere la spiegazione. Lo studio di Scheme ha il merito anche di aver indagato una popolazione finora per certi aspetti mai indagata negli studi precedenti dal Courage al Berry, in buona sostanza si erano o esclusi o arruolati pochissimi pazienti con severa insufficienza renale, sto parlando di pazienti con un filtrato glomerulare inferiore a 30 oppure pazienti già in dialisi, quindi questo è già un merito dello studio ischemia. L'obiettivo primario, l'empoint primario era l'infarto e la mortalità e poi l'obiettivo invece secondario, o meglio l'impoint secondario, era quello cumulativo uguale a quello per lo studio ischemia generale. Ebbene, quello che è emerso è che in linea con lo studio generale anche, o vorrei dire soprattutto, nei pazienti con insufficienza renale severa o in dialisi, a dispetto dalla presenza di una ischemia documentata con lo stress gene, imaging, anche se non tutti i casi, anche moderata o severa, l'atteggiamento invasivo non aggiunge nulla di più, in termini di guadagno clinico, rispetto all'atteggiamento conservativo, anzi, l'atteggiamento aggressivo, invasivo, comporta un maggior rischio di stroke e un maggior rischio di andare incontro a dialisi e a pazienti che in dialisi ancora non erano. Per cui il messaggio conclusivo è sostanzialmente uguale a quello dello studio generale, cioè l'atteggiamento invasivo non porta un ulteriore vantaggio rispetto alla terapia medico-ottimale anche in presenza di ischemia moderata o severa, ma il messaggio ce lo sta per la prima volta fornendo in una popolazione ad altissimo rischio che finora per tante ragioni era stata esclusa o studiata su piccoli piccoli numeri. In questo caso invece 777 pazienti sono stati randomizzati al braccio invasivo o al braccio conservativo con i risultati che abbiamo appena descritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.